che questo libro non si nasce e non procede attraverso la scrittura di componimenti di singoli testi che sono pensati in sua funzione in funzione del libro che sta crescendo ma questo libro si compie si organizza cresce attraverso l'ordinamento di componimenti che erano già stati scritti e alcuni erano stati scritti addirittura in anni molto remoto quindi c'è un'altra scommessa ancora dentro al canzoniere utilizzare materiali vecchi dando loro un significato nuovo e il significato nuovo deve scaturire dall'ordine in cui quei materiali sono disposti nel libro